La riforma della politica agricola della comunità europea che riguarda il periodo 2014-2020 porterà molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo. I pagamenti diretti, le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale. Appunto lo sviluppo rurale diventato con Agenda 2000 il secondo pilastro della PAC ha assunto un'importanza sempre maggiore nelle ultime riforme. Le novità sono tali e tante che è necessario aggiornare tutti i dati della propria azienda e soltanto a verifica completata con una consulenza specialistica fornita dagli uffici avviare il procedimento burocratico. E' questo il motivo conduttore dei tanti incontri sulla PAC e sul PSR. Di questo si è parlato appunto nel convegno organizzato da CIA Copagri e Confagricoltura nel corso di Agrimarche, la fiera dell'agricoltura per tecnici e appassionati che si è tenuta a Pesaro nel quartiere fieristico di Campanara. Due punti molto importanti per quelle che sono le aziende agricole. La PAC, la nuova PAC che ha cambiato, è stravolto quella che era la PAC di una volta e sul PSR. PSR che sono tutti quegli investimenti per le aziende agricole per poter migliorare le aziende, quindi portare aggiornamenti, portare innovazione in quello che è l'azienda agricola del futuro. Nel PSR cosa molto importante è l'insediamento giovane. L'insediamento giovane vuol dire un ricambio generazionale delle aziende. Il PSR delle Marche, sempre molto attenta al mondo agricolo, finanzierà azioni nell'ambito di tutte e sei le priorità dello sviluppo rurale, con particolare attenzione alla conservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, nonché al potenziamento della competitività del settore agricolo e forestale e promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Ma il settore agricolo che per tanti è immaginato come un settore di tradizione esclusivamente, in realtà è un settore di grandissima innovazione e gli strumenti che sono a disposizione sono quelli in discussione al convegno di oggi, in particolare la regione gestisce il PSR che ricordo sempre è il principale fondo europeo che distribuiamo, anzi oltre la metà dei fondi europei sono dedicati all'agricoltura e al PSR. Diciamo che alcuni passi in avanti nelle regioni sono stati fatti, questo va detto, una semplificazione in alcune misure avvenuta è molto poco, noi abbiamo bisogno che la semplificazione sia solo ed esclusivamente quella che l'Europa ci chiede, non dobbiamo aggiungere null'altro, quella che l'Europa ci chiede quella dobbiamo applicarla.